albim ma cosa dovevi dirmi edo ti ricordi i 250 euro che mi dovevi ne assolutamente bisogno ma io credo che i soldi poi non è che siano così difficili non è facile anche ce ne ho 50 euro non credo che sia un po' così tanti soldi ecco ha fatto una cosa mattia 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 anche corini di data e berto ma zina ecco ma credo che si siano anche dopo avere i soldi quindi non credo che poi sia così di fare in un edificio ecco va bene lo scusa fai finito ma figurati tutto a posto ciao ciao a presto e scusa scusa cosa stai facendo è il mio ragazzo mi stai tradendo con questo peluche tra l'altro ora io che volevo che vogliava fare un po' di ero po' di colini ovvero anne-maphazia e loro dicevano quelle due parole e mi say vado una cosa totalmente un pò così e ha fatto tutto ecco ah ok scusa..non avevo capito però se la metti su questo piano scusa scusa, ci vediamo a casa dai ci vediamo dopo Sì, ciao! Ciao, ciao, ciao! C'è una volta che si scontri su delle sconfitte di questo tipo e si è costruito qualcosa di importante. Oh, grazie mille, Aldi. Non ti preoccupare. Edo, ma questa riga non c'era prima? Ma questa riga non è niente, ha fatto una cosa nella macchina, ha fatto una pallonata di Eriberto, ha fatto una cosa che ha fatto così, ha fatto così... Vai 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 vai! Manzino, 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 manzino! Allora, ma anche Gandhi ha fatto una cosa un po' così, una cosa anche un po' estetica, ecco. Ah, fa niente. Edo, è tranquillo. Quando ti serve? Ma figuranti, grazie ancora. Ciao, bello. Grande. Ciao! Ma! Malazina! Malazina! Maurizio Pistocchi, prego. Eh, buonasera. Magari adesso prego anche due o tre giornate di... Magari adesso prego due o tre giornate di squalifica, anche per loro possono fare quello che vogliono. Come io potete parlare di cazzo, di altre tre cose, ma non offendetevi nel dirmi che non so di cazzo, eh. Nigga, pass Dr. Bottle. Damn! No! No!